Non ancora. È nel mio perito. Nessun sopravissuto. Appasso la luna. Master Chief è morto. Per mano mia. Chief, quella piattaforma. Siamo arrivati tardi. Non ancora. Farò a pezzi il tuo corpo, cane. Bene. Magica sia. Master Chief è morto. Per mano mia. Ben fatto. È finito. Trovate la nostra... Chief, quella piattaforma. Siamo arrivati tardi. Non ancora. Attenti. Esiliati. Battacca. Battaglia ha portato gli esiliati. Non avevi scampo umano? Questa battaglia mi ha rimescolato le salle. Chief, quella piattaforma. Siamo arrivati tardi. Non ancora. E affrontami dal guerriero. Codato. Eccolo. La tua torrezza non ti salverà. Da questo. Chief, quella piattaforma. Siamo arrivati tardi. Non ancora. Ho le tue ossa. Mi scelta per la sparta. Esplosivo. Capare. In arrivo. Addio. Morirò per mano di questo cane di una granata. Gloria a me. Vittoria agli esiliati. A malapena una sfida. Nessuno. Chief, quella piattaforma. Siamo arrivati tardi. Non ancora. Non lasciate vivere nessun bar. Sottovalutate lo sparta. Nessun se va. Ti dimentico. Sono qui. Non lo chiedemela di sotto. Preparatemi. Granata. Non toglierai l'onore agli esignati. Affondate le zanne. Affilate i cu- Erano... insistenti. Hanno ucciso lo Spartan Sorel? Negativo. I suoi assassini sono in giro. Questo ascensore ci riporterà in superficie. Non ha senso. Spingersi fino a qui solo per uccidere il Monitor. Il Monitor deve proteggere l'anello. E allora perché ucciderla? Non ne ho idea. Non ne ho capire. Non ne ho capire. Non ne ho capire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Respondent, Pyre. Aveva qualcosa che mi serviva. Ti conosco, Attivatore. Ma ascolta, tu non sei il futuro. Tutto ok, Chief? Sto bloccando la corazza. Insisti. Le menzogne dei prepulsori sono finite. Io sono la messaggera della verità. Gli Eterni saranno ritrovati. Loro ascenderanno. Quanto ti manca? Ci sono, ci sono. Tre. Inizia la palingenesi. Due. Uno. Non, bye! Ci ho messo troppo. Potevi essere ucciso. Tutto ok. Ci ha salvato. La struttura. Appunto. Sai che cos'è? No. La messaggera ha detto che gli Eterni torneranno. Forse sono dentro a quel coso. Forse. Scopriamo. Un esplosivo. Un esplosivo. Non riesce a essere grande e forte. Ma io ho paura. Il copane eri tu. E dovevi avere paura di me. La struttura. Appunto. Sai che cos'è? No. La messaggera ha detto che gli Eterni torneranno. Forse sono dentro a quel coso. Forse. Scopriamolo. Potrei combattere e guidare allo stesso momento. Se quello fosse il mio stop. Vai brillarmi e inizia a sparare. La scopriamolo. Scopriamolo. Ce l'ho a dosso. Ce l'ho fatta. 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 Forse sono dentro a quel coso. Forse. Scopriamolo. Ti tirerò sotto, Devole! Ho ucciso il Devole! Corriò i miei idioti. Forse sono dentro a quel coso. Forse. Scopriamolo. Il tuo sangue è debole. Tu sei debole. . . . . . . Vieni per la tua testa! Per преступo! Suffetti racchiccerti! Che sono questi tizi? Cacciatori. E cosa fanno? No, lascia perdere. Sbarazzati di loro così potremmo. Sbarazzati. Sbarazzati di loro così potremo entrare. Sbarazzati. 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 Attiviamo l'ascensore gravitazionale. Non sembra un protocollo originale degli esiliati È più robusto di quanto mi aspettassi Quindi? Iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow! Questo posto è... esattamente come te lo immagineresti. A cosa serve? Non saprei. Trovami un punto di accesso e proverò a scoprirlo. Ci siamo. Fammi entrare lì dentro. Interessante. Questa struttura è stata attivata usando uno dei protocolli più vecchi che io abbia mai visto. Ehi... Lo sa che noi siamo qui. Benvenuti, benvenuti. Oh, salve. Sono Agitant Resolution, monitor secondario di questa installazione e leale servitore di Despondent Pyre, che deve essere indisposta se sono stato attivato. L'avete vista? Più o meno. Glielo dici tu? Dimmi cosa. Monitor andato. Andato? 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 Non siamo stati... Siete sicuri? Sì, certo. Non c'entriamo nulla. Bene. 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 Temevo non foste amichevoli. Come vedete, questo pinnacolo è stato posizionato con successo. Seguitemi. Presumo, vogliate vedere la piattaforma di osservazione? Visto? Sembra amichevole. Vedremo. Avete detto qualcosa? No? Allora venite, venite. C'è molto da vedere. Da questa parte. Oh, mi dispiace. Il portale avrebbe dovuto essere attivo. Un momento. Prego. Entrate nel portale. Spondent Pyre mi ha creato per farle d'amico, non fare in piazza. Seguitemi, prego. Manca qualcosa. Oh, già, un ponte. Un attimo. Lo ci chiamo. Molto emozionante. Tra poco la sequenza sarà inviata e la palingenesi potrà cominciare. Sc Потому, perchéard ti ha mantenuto un rinforcato un po' di anni fa nel nonostanzial intersecte. Non c'è nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiedo scusa. Torno subito. Portami a quel terminale. Oh, non è così male. Lo scopo di questa struttura è semplice, ricostruire l'anello. Nello specifico, creare i materiali che servono per ripararlo. Non succederà. Perché? È così incredibile. Oh, gli esiliati. Giusto? Mi ero distratta un attimo. C'è tanto da imparare qui. Disattivala. Per sempre. No, no, no! Cosa fate? Questo è inaccettabile. Credevo foste amichevoli. Nessuno può distruggere questa infanazione. Questa interferenza è davvero imbritante. Guarda quanti danni stai causando con quegli agenti. Quell'e mall'intra? Beh! Sì! Questa è iniziata! Sì! Questa è avicata! È un po' illegale, ma statisticamente efficace. Hai danneggiato la mia esostruzione. Il compito è concluso. Ora, pulizie. La paligenesi non verrà interrotta. Non puoi essere su. Esplosivo. Nella mia installazione. Come ti permetti? Cato che può bene. Guarda che disastro. Dovresti vergognarti. Guarda quanti danni stai causando con quel cielo, mostro. Guarda che disastro. Dovresti vergognarti. Non puoi legare, ma statisticamente efficace. Non puoi rompere qualcosa. Guarda quanti danni stai causando con questi aggetti. L'assassio eliminato. Guarda che Esplosivo! Nella tua installazione! Come ti permetti! Ti vorrei far rompere tu in casa! Questa interferenza è davvero irritante! Bisogna proprio rinforzarli! Questa è altamente... Eccoci qua! Ti muovo in sella! Sto in questo modo! La polizia edesi è già iniziata! Non agitarti! E presto sarà tutto finito! Cosa? No! Che problema ha questa struttura? Reutilizzare l'energia alle armi rimaste! Carasse da partidione! Fermati ora! Questo è davvero troppo! Nota per scontri futuri! Ridurre i ripari a disposizione degli introsi! Mi stai facendo arrabbiare! Mi stai facendo arrabbiare! Maledetta struttura! Sono esposto! Io posso autoripararmi! Stai fermo! Non sono ottimizzato per il combattimento! Devo perciò non far scendere! Devo perciò non far scendere! Qui e ora! Smettila di sparare! No! No! Di nuovo! Regolazione dei modelli predittivi! Questo è più semplice! Consiglio di sparare! Consiglio di sparare! A cosa sei a resistere? Stai perdendo tempo! La parigenesi è già iniziata! Fermati fredatamente! Interrompi immediatamente la tua interferenza! Non posso sopportare questo genere di violenza! Ho delle buone e delle cattive notizie. Quanti? Ok, allora prima quelle cattive! Un sacco, vedo nove... No! Dieci pinnacoli! Continuano ad aumentare! Attivi? No! Non ancora almeno! Sembra che aspettino una sequenza di inizializzazione! Qualcosa sovraccarica la rete per attivarli! Ma ci sono delle resistenze! Perché? Il protocollo che ha avviato tutto questo non era esattamente corretto! Ma nonostante ciò sembra aver funzionato! Altre brutte notizie! Non posso proprio disattivarlo! Tuttavia posso rimuoverlo dalla rete! Ma certo! Posso individuare l'origine dell'attacco! Devo soltanto... Aspetta! È sicuro? Ma dai! Lo chiedi a me! Ad un programma di infiltrazione inconcepito! Chi sei? Ups! Credo che forse sappia... Come riesci a farlo! Spegni! Dammi soltanto un secondo! Ora! Fatto! Perché non devi dormire? Che c'è? Metterlo offline non è stata una grande idea! Dobbiamo andarcene! Adesso! Estrazione immediata! Oh cielo! Sei stato tu! Ora! Arrivo! Arrivo! Oh e dai! Apri! Posizioni dei pinnacoli! Tutte quante? Tutte! Guardi, fate ricevute! Ah! Sembra che qualcuno abbia segnato 42 nuove posizioni! Mi sembra una follia, no? Questa? Era l'origine dell'attacco! L'attacco? Di che sta parlando, Chief? Vogliono ucciderti tutti! In effetti sembra sia così! Oh! Aspetta! Era una battuta sarcastica! È simpatico! Mi piace! Sono già morto! Non devo esserlo morto, direi! Questa è una buonazione, no? Attenzione! 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 No! Attenzione! No! Attenzione! 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 Non è possibile! Attenzione! Eseguo un atterraggio d'emergenza. Caprale. Ehi, mi fatti! Ehi, mi fatti! Davvero? Calma. No! Tu non devi dirmi cosa fare. Non hai il diritto di dirmi niente. Noi siamo... Mi stai ascoltando? Vedo tre cannoni antiaerei. Tre cosa? Qui stai al sicuro. Oh! Non c'è alcun dubbio. Al sicuro! Non sono stato al sicuro da quando ti ho trovato. Ti ho trovato io, ricordi? Eri là fuori da solo e lo saresti ancora se non fosse per me. Credevo di essere diretto a casa. Non ci saranno a casa se non infermiamo. Ma continui a ripeterlo. Ma siamo in minoranza e male armati. Delizio e ripetitati. Sono per certo di aver visto dei Goddor. Cercherò tra i rottami per trovare una guida i per spazio. E quando avrai finito con la guerra, potremo andarcene via. Molto lontano da qui. Sta qui. Per favore. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Prima i cannoni. Quando tornerò, potremo cercare. Insieme. A tutti gli esseri umani che non vedono l'ora di essere torturati a morte. Mi dispiace a bruciarvi che la torre è chiusa per lavori di ricostruzione. L'ordine del comandante Jack Lock, che è vivo e vegeto. Ma non vi preoccupate. Per farvi sparire in un nero abito senza fine. Grazie a tutti. 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 Auditorio. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.